Intanto bisogna cominciare a vincere domani, che è la cosa principale, perché tutti danno per scontato, ma scontato nel calcio non c'è nulla. Mi insegnano molte partite che ci sono state negli anni precedenti e una recente come Bologna-Verona. Perciò se non scendi in campo con l'atteggiamento giusto, con la testa giusta, con la concentrazione giusta, rischi di fare anche brutta figura. Perciò questo non è mai facile, anche la Reggiana ha vinto all'ottantesimo, all'ottanta-treesimo la partita contro la Propatria, l'Alessandria idem è andata lì, ha sofferto e ha vinto. Ho visto la partita con il Gianna che hanno fatto, non meritavano di perdere, solo perché uno si è incestificato sulla palla, hanno preso gol, se no la partita non la perdevano. Perciò non diamo per scontato niente, noi dobbiamo andare in campo, giocarsi la nostra partita, essere umili, determinati, con grande concentrazione, perché queste sono le partite più pericolose.